Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stanno portando gli Hobbit a Isenga Dimmi dov'è Gandalf? Perché molto desidero parlare con lui Dimmi dov'è Gandalf? Perché molto desidero parlare con un Balrog di Morgoth Come hai detta? Un Balrog di Morgoth Come hai detta? Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stupido grassa Hobbit Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stupido grassa Hobbit Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stanno portando gli Hobbit a Isenga Stupido grassa Hobbit Fattele ora e non fatti ripetere!